Ragazzi buonasera a tutti e andiamo e andiamo, vi vogliamo così vi vogliamo Post partita di Empoli-Napoli, Empoli 3, Napoli 2 ragazzi, una partita un pomeriggio veramente che ha del pazzesco, dell'incredibile Una rimonta ragazzi degli Empoli fuori dal normale, incredibile, pazzesco, impensabile ragazzi Recuperare insomma due gol sotto di due ragazzi contro una delle squadre che punta al primo posto E ragazzi l'Empoli che riesce a ribaltare incredibilmente la partita ragazzi Quando io onestamente non ci speravo più perché insomma sul 2-0 ragazzi Cioè insomma chi va a pensare di poter ribaltare una gara così E invece ragazzi grande cuore, grande voglia dell'Empoli oggi veramente dopo diverse partite ragazzi sotto tono Dai non ci giriamo intorno ma oggi ragazzi a tratti Secondo me si è rivisto l'Empoli dei bei tempi, insomma del girone d'andata Dove insomma al primo tempo secondo me non si meritava insomma ragazzi di essere sotto 1-0 poi tanto meno insomma poi il secondo gol all'inizio del secondo tempo Ma poi ragazzi questa squadra non ha mollato Ha avuto insomma con i cambi che hanno dato finalmente qualcosa Enderson autore del gol del 2-1 che riapre appunto la gara Poi ragazzi arriva l'erroraccio insomma di Meret che ci regala il gol del 2-2 con un gran Pinamonti Ragazzi insomma che cavolo sbagliano anche gli altri Insomma sbaglia l'Empoli ma sbagliano anche quegli altri ragazzi ci sta Insomma d'altra parte insomma d'altra parte ragazzi è così non si può sbagliare Insomma solo noi sbagliano anche loro ragazzi Arriva questo paperone di Meret che ci regala il 2-2 Insomma va a rinviare e la rinvia addosso a Pinamonti Poi ragazzi arriva il gol del 3-2 sempre con Pinamonti Pallone di Bairami nel mezzo, gol del 3-2 Quindi ragazzi purtroppo non ero allo stadio ma insomma io penso e credo insomma che sia esploso tutto Sinceramente sul gol del 3-2 Poi insomma minuti di recupero 5-6 minuti che sono volati via senza insomma senza né pericoli né rischi E l'Empoli ragazzi fa un'altra impresa l'ennesima di questa stagione ragazzi C'è da fare i complimenti a questa squadra ragazzi Quando c'è insomma da criticare l'avete visto io sono il primo che critica Ma quando insomma c'è da fare degli elogi insomma a questi ragazzi che insomma e al nonno che oggi ha indovinato tutto Io li faccio insomma non mi nascondo insomma mi conoscete bene ormai ragazzi Quindi tanto di cappello ragazzi 37 punti ormai insomma se i giochi erano fatti prima adesso Io direi ragazzi che non c'è veramente più nessun tipo insomma di problema E io ragazzi penso che l'Empoli a questo punto con quattro guardi insomma dalla fine possa andarne a vincere almeno un'altra ragazzi O forse insomma anche due perché questa vittoria insomma ragazzi ti ridà forza, ti ridà grinta Insomma ti risveglia una vittoria così ragazzi Insomma d'altronde queste sono le partite che tutti si vuol vedere ragazzi L'Empoli insomma non è nuova a queste imprese quest'anno e insomma ce l'ha fatto vedere anche oggi Sono contentissimo non si può chiedere di più ragazzi Ma anche perché si è rivisto appunto il vero Empoli ragazzi Il vero Empoli che ha voglia, che ha grinta, che ci mette il cuore, che ci mette la gamba E che dà tutto e noi si vuole vedere ragazzi la maglia sudata E oggi insomma sinceramente chi era allo stato appunto sotto l'acqua Insomma alla fine ragazzi si è visto questo spettacolo E forza ragazzi così va benissimo, va benissimo ragazzi Io sono contento per questa salvezza Ancora ragazzi appunto la matematica non c'è ma Ormai veramente ragazzi questione Insomma io credo di aspettare il prossimo turno Però ragazzi godiamoci questa impresa che ragazzi non capita Insomma tutti gli anni dalle nostre parti di vedere delle imprese così Insomma ragazzi questa è ancora più clamorosa di quella contro la Fiorentina Perché insomma lì è vero Insomma l'hai appunto ribaltata con la Fiorentina Però insomma lì alla fine perdevi ragazzi 1-0 oggi insomma si è andato appunto a recuperare insomma due reti ragazzi A questa squadra non è poco insomma ragazzi Spalletti per oggi insomma deve rimanere a secco il nostro grande ex Però fa parte ragazzi del gioco questo qua Come detto godiamoci ragazzi questa vittoria qua Pensiamo poi alla prossima con il Torino in casa Ma ragazzi ho detto ormai insomma questo Empoli è salvo e tranquillo E ho detto che questa vittoria può darci un nuovo sprint Si spera a tutti per andare almeno a fare ragazzi altri tre punti E chiudere in bellezza ragazzi con la permanenza appunto in serie A Io niente ragazzi vi saluto qua Vi ringrazio buona domenica sera Buon appetito se siete a cena E niente ragazzi io vi ringrazio Alla prossima e stasera come sempre più che mai Forza Empoli Forza Azzurri Ciao a tutti Ciao a tutti